Le soluzioni video all di Samsung sono il risultato di anni di ricerca e perfezionamento che hanno permesso l'adozione di schermi dai profili sempre più sottili e modalità di installazione sempre più facili. I nuovi display della serie UHF presentano un profilo ultrasottile dallo spessore di soli 1,15 mm sul lato superiore e sinistro e di 0,55 sul lato inferiore e destro, così da avere uno spessore tra uno schermo e l'altro di appena 1,7 mm. Questa caratteristica permette alle immagini e ai video di essere riprodotti senza interruzioni e di attrarre maggiormente l'attenzione del nostro pubblico. La soluzione video wall è dotata di un player box all-in-one per gestire i contenuti con il software Magic Info, eliminando quindi la necessità di acquistare ulteriori attrezzature hardware. Le speciali staffe push and pull permettono di installare facilmente gli schermi a parete e consentono quindi di intervenire sul singolo schermo qualora fossero necessarie delle operazioni di manutenzione. Inoltre, grazie agli alti standard di affidabilità, i video wall Samsung possono funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Samsung Smart Signage, la soluzione che viene incontro al vostro business.